È ricoverato all'ospedale San Pio di Benevento dove è stato sottoposto anche ad un intervento chirurgico il trentenne della città che la scorsa notte è stato raggiunto da un colpo di pistola esploso dai carabinieri. È accaduto a Contrada Ponte Corvo all'ingresso di Benevento, non lontano dal rione Libertà. È qui che i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia del capoluogo stavano effettuando un posto di blocco. Ad un certo punto hanno intimato l'alta ad un'auto. Il conducente invece di rallentare avrebbe accelerato rischiando anche di investire i militari. Uno dei carabinieri ha estratto l'arma di ordinanza ed avrebbe esploso alcuni colpi di pistola. Uno di questi ha raggiunto lo sportello del veicolo oltrepassandolo ed ha colpito alla gamba il trentenne. Il giovane è stato immediatamente soccorso dagli stessi carabinieri che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono accorse altre pattuglie dell'arma e l'ambulanza del 118 che ha trasferito al pronto soccorso del Sampio il trentenne, che in nottato è stato poi sottoposto ad un intervento chirurgico. Sono ora in corso le indagini e i rilevi per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.